In questi anni a me è capitato, spesso nelle conferenze, di dire che l'Antico Testamento mai ha contenuto e contiene profezie che riguardano Gesù Cristo. Non le contiene. Ovviamente tutto questo, immaginate, suscita reazioni, reazioni anche di vario tipo. Quando qualcuno scriveva, qui ci sono secoli di tradizione che dice una certa cosa, poi arriva Biglino e Biglino ha scoperto tutto. No, Biglino non scopre assolutamente niente. Io dico, leggo l'Antico Testamento e non c'è nulla che si riferisca a Cristo. Punto. La profezia più importante è quella, questa l'avete ascoltata tutti sicuramente, la Vergine concepirà e partorirà un bimbo e gli sarà dato nome Emanuele. Ok? Siamo nel libro di Esaia, capitolo 7. Conferenza episcopale tedesca. A partire dal 2017, la traduzione di quel versetto cambia. La traduzione di quel versetto, nelle Bibbie tedesche, è La Vergine ha concepito e sta per partorire. Ha concepito, non concepirà. E poi in nota c'è scritto che la parola ebraica tradotta con vergine, in realtà in ebraico non vuol dire vergine ma giovane fanciulla. Allora io dico, potevano avere il coraggio di fare un passo in più e far che togliere vergine e mettere subito giovane fanciulla, però un passo alla volta. Allora ha concepito, non c'è più il concepirà. Quindi quella profezia dalle Bibbie tedesche scompare. In ebraico c'è scritto questo. Alma, Ara, Alma, Ara, Yoledet. Alma in ebraico significa giovane fanciulla, perché quando in ebraico vogliono dire, è la Bibbia, vuole indicare una vergine, dice Betullah, perché ci sono due nomi distinti. Quindi Alma è una cosa, Betullah è un'altra. Quindi giovane fanciulla, Ara, non è neppure un verbo, è un aggettivo, che significa incinta. Yoledet è il participio che significa partorente. Quindi una giovane fanciulla che è incinta ha già concepito, no? Perché è incinta nel momento in cui scrivono quel versetto lì. Quindi quella profezia lì, una vergine concepirà, nella Bibbia ebraica non c'è mai stata. Mai. Allora quando si dice, arriva Biglino e, no, Biglino vi dice, attenzione, guardate che in ebraico c'è scritto questo. Punto. Non c'è niente da scoprire, c'è scritto quello, basta. Dopodiché spiegatemi voi perché vi inventate il verbo al plurale. Certo, se lo traducono al plurale perché lo prendono dalla Bibbia scritta in greco, dove lì è indicato un verbo al plurale. Ma la Bibbia scritta in greco è una Bibbia che per gli ebrei è una disgrazia per l'umanità. E comunque in ogni caso dobbiamo almeno prendere atto di un fatto che tra la Bibbia ebraica e la Bibbia scritta in greco c'è una differenza sostanziale. Per quella in ebraico la ragazza è già incinta, per quella greca no, chi ha ragione e chi lo sa. Attenzione, probabilmente ha ragione la Bibbia ebraica perché? Perché nella Bibbia c'è persino scritto il nome di questa fanciulla qui. Abia oppure Abi, che era la giovane moglie del re Ahaz di Giuda, che nel momento in cui viene scritto quel versetto era già incinta, siccome quel re stava consegnando di fatto Israele nelle mani degli assiri, loro formulavano la speranza che essendo lei già incinta e stava per partorire il nuovo re del trono, il nuovo re del trono li avrebbe di nuovo liberati dal gioco assiro. Quindi la Bibbia ci dice persino il nome di quella ragazza lì. Più chiara di così la Bibbia non può essere, non può. Basta non nasconderla. Invece c'era bisogno di trovare una profezia che parlasse di una vergine, che in futuro avrebbe partorito, è solo che non c'è. Non c'è, se non c'è non c'è, finito. Per fortuna la conferenza episcopale tedesca ne prende atto. Meno male, poi spero che ne prendano atto anche tutti gli altri, prima o poi. Questa è una delle traduzioni che cambiano. Allora, quando all'inizio vi dicevo che quelli che la predicano la predicano senza conoscere la lingua nella quale è scritta, penso ai sacerdoti tedeschi, che fino al 31 dicembre 2016 dovevano dire Isaia nel suo capitolo 7 ha previsto il parto virginale di Maria, dal 1 gennaio 2017 non lo possono più dire. Perché la traduzione è cambiata. Capite? E ci sono altre traduzioni che cambieranno nei prossimi anni. Quindi, chi predica sulla base di un tradimento sono loro. Perché io cerco di ridare, nel mio piccolo, nel mio nulla, di ridare un po' di dignità alla Bibbia dicendo guardate che c'è scritto questo. Poi credete quel che volete. Le questioni di fede non sono questioni che mi riguardino. Ci mancherebbe. Io non dico Dio non esiste come qualcuno mi attribuisce. Io non ho queste conoscenze per dire Dio non esiste. Come faccio a dirlo? Per dire Dio non esiste dovrei essere uno che sa. Ma io non sono uno che sa. Io sono uno che è un ignorante che studia, legge e cerca di capire. Quindi io non ho né le certezze dei fideisti né le certezze degli atei. Per me Dio può anche esistere. Che ne so io di come è venuto a originarsi l'universo qualora ci sia necessità di definirne una origine. perché potrebbe anche non esserci. E infatti non me ne occupo perché non ne so nulla. Quindi io mai e poi mai mi sogno di dire Dio esiste e Dio non esiste. La domanda io dico non lo so. Perché è l'unica cosa che posso dire. Non lo so. Vi dico solo. Quel libro non ne parla. Su questo non ci sono dubbi. Il fatto che non ne parli non vuol dire che non esiste. Io mi rendo conto che noi viviamo in questo nostro mondo occidentale nel quale se una cosa è scritta sulla Bibbia è vera altrimenti no. Ecco, per fortuna non è così. Perché la Bibbia è uno dei tanti libri che l'umanità ha scritto nel corso della sua storia e contiene anche un sacco di balle, un sacco di contraddizioni. Proprio contraddizioni interne nel testo. Cioè una cosa affermata è dieci pagine dopo negata. Cioè quindi voglio dire prendiamolo per quello che è quel libro lì. Però almeno leggiamo quello che c'è scritto. Perché ripeto, nel momento in cui ci viene raccontato che Isaia attraverso questa profezia ha previsto il parto virginale di Gesù ci viene raccontato il falso. Perché nella Bibbia ebraica non c'è. Tutto lì. Non c'è niente da scoprire. Basta leggere. Cioè capisco che uno dice io non conosco l'ebraico però ci sono le Bibbie interlineari che contengono le traduzioni che sono più letterali delle altre. ci sono poi tutta una serie di altre cose che devono cambiare assolutamente e che cambieranno e che qui riguardano invece proprio di nuovo traduzioni forzate. Mi spiace che nessuno di voi abbia una Bibbia perché sarebbe stato Ah, una Bibbia c'è. Possiamo prendere Genesi 20? 13 Qui è Abramo che parla. Abramo sta raccontando di quando l'Elohim di nome Yahweh è andato a chiamarlo dalla terra dei suoi padri gli ha detto lascia la terra dei tuoi padri vieni con me che andiamo a conquistarci una terra. Abramo sta raccontando questo fatto e dice così controllate Or avvenne che quando Dio mi fece errare lungi dalla casa di mio padre io le dissi eccetera 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 Quindi qui voi leggete la Bibbia Or avvenne che quando Dio mi fece errare lungi dalla casa di mio padre. Nelle Bibbie quelle che contengono anche il testo ebraico che era quelle su cui lavoravo io quando appunto lavoravo per le edizioni San Paolo c'è la traduzione sotto letterale che è la traduzione si chiama interlineare appunto perché è fatta parola per parola qui sotto. Queste sono le Bibbie che vanno anche nelle facoltà le potete comprare anche voi ma vanno nelle facoltà di teologia vanno nelle università insomma dove c'è chi studia l'ebraico eccetera. Quel versetto lì Ora avvenne che quando Dio mi fece errare lungi in ebraico dice e fu come che fecero vagare me Elohim da casa di padre mio fecero vagare me plurale Elohim è il termine ebraico che è plurale e che viene tradotto in italiano e nelle altre lingue con Dio al singolare ma nessuno al mondo sa cosa significa Elohim tant'è che l'esegesi ebraica scrive che l'ebraico biblico non ha neppure il termine che indica Dio non ha neppure il termine che abbia significato di Dio non c'è non c'è viene messo apposta perché la Bibbia deve parlare di Dio allora bisogna inserirlo ma qui l'ebraico dice che quando gli Elohim lo hanno fatto uscire verbo al plurale nelle Bibbie per le famiglie verbo al singolare nelle Bibbie per chi studia l'ebraico verbo al plurale questo è o non è una falsità se un verbo al plurale lo lasci così sempre non è che nelle Bibbie per le famiglie lo metti a singolare così la gente che legge legge Dio no no non c'è scritto così la casa editrice è la stessa la stessa casa editrice edizione San Paolo Bibbia per chi conosce l'ebraico Bibbia per chi non lo conosce queste cose qui devono cambiare per forza quando nel libro dei giudici si parla di un incontro tra Gedeone e uno dei cosiddetti angeli siamo nel capitolo 6 del libro dei giudici versetto 21 fanno una serie di cose dopodiché nelle Bibbie che trovate in casa se vogliamo leggerlo giudici 621 Nicola puoi dare il microfono grazie ve lo anticipo comunque c'è scritto alla fine l'angelo se ne va e in genere c'è scritto l'angelo sparì l'angelo disparve l'angelo scomparve agli occhi di Gedeone abbiamo trovato ok l'angelo scomparve poi quando Gedeone abbia fatto tutto il messaggero del signore stese la punta del bastone che teneva in mano toccando la carne e le focacce ok avanti subito un fuoco sprigionatosi dal sasso divorò la carne e le focacce poi il messaggero del signore scomparve dalla vista di Gedeone ok grazie qualcun altro allora scomparve sparì disparve in ebraico c'è scritto se ne andò camminando e perché se ne andò camminando perché i malachim della Bibbia non sono gli angeli che poi sono stati inventati dopo erano individui in carne ed ossa che mangiavano bevevano camminavano si sporcavano si lavavano potevano essere aggrediti erano in genere pericolosi era meglio non incontrarli perché quando li si incontrava c'era rischio di morire e quindi siccome era un individuo in carne ed ossa se ne va camminando le devono cambiare queste traduzioni qui le devono cambiare perché sono false non c'è discussione non c'è esegesi lì non stanno traducendo stanno interpretando interpretando e portando dal presupposto che siccome gli angeli sono quella roba lì com'è che se ne vanno sparendo no è che nella bibbia gli angeli non sono quella roba lì quindi non spariscono camminano tutto lì non è esegesi quella è traduzione falsa deliberatamente falsa ci sono tutti i dizionari che indicano cosa significa quel verbo lì tutti camminare andare camminare tutti quando daniele viene visitato da un certo gabriele dico un certo perché gabriele in ebraico non è il nome di un individuo ma il nome di una come dire di un grado all'interno di una gerarchia militare cioè uno che esercita il potere per conto di un el è un gever di un el cioè un gabriele va a incontrare daniele tra l'altro daniele noi nel canone cattolico romano daniele è un libro profetico cioè è uno dei profeti maggiori se voi prendete il canone ebraico daniele non è neppure messo tra i profeti perché non lo considerano è messo tra i cosiddetti ketuvim cioè gli scritti ultimi quelli meno importanti invece da noi su daniele si fanno calcoli su calcoli per la fine del mondo eccetera 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 allora quando questo daniele cioè questo gabriele va a incontrare daniele e dice ti porto gli ordini le decisioni che sono state prese nel concilio dei guardiani arriva da lui e nelle bibbie c'è scritto prendiamo daniele capitolo 10 versetto 21 daniele 10 21 così facciamo le verifiche in diretta che è la cosa migliore nel senso che non dovete credere una sola parola di quello che vi dico voi per cortesia se avete segnatevi i versetti man mano che ve li dico e andate a controllarli a casa perché è l'unica cosa importante da fare trovato io ti dichiarerò ciò che è scritto nel libro della verità nessuno mi aiuta in questo se non Michele il vostro principe chiedo scusa daniele 10 21 cos'hai uguale ah no chiedo scusa 9 scemo scusatemi 9 21 9 21 sì sì mentre dunque parlavo e pregavo Gabriele che io avevo visto prima in visione volò veloce verso di me grazie prego qui ok sapete cosa c'è scritto in ebraico arrivò essente affaticato di fatica volò veloce arrivò affaticato di fatica siccome un angelo non può affaticarsi allora si dice che arriva che vola veloce è solo che non vola non vola e persino in uno dei dizionari più importanti di etimologia ebraica pubblicato dall'università di Haifa è ripreso proprio quel versetto dove c'è scritto che arrivò essente pesantemente affaticato capite che non c'è bisogno di scoprire nulla basterebbe che raccontassero il vero basterebbe che traducessero il vero e allora sapremmo che Gabriele fantomatico angelo si stanca e come si stanca scopriremo che i fantomatici angeli se ne vanno camminando ma lo scopriremo perché lo scopriamo come una sorpresa perché nei nostri libri non c'è perché vengono inserite quelle traduzioni capite? invece poi se si va a vedere il testo ci sta dicendo altro siccome la Bibbia parla di Dio e parla di mondi spirituali beh non può non esserci l'eternità che io francamente non so bene che cosa sia nel senso che viene definita definirla come il tempo che dura per sempre non è giusto perché non è l'eternità è il non tempo però il non tempo io non so che cosa sia perché noi purtroppo viviamo dentro un qualcosa che procede per mutazioni e le mutazioni scandiscono comunque poi si dice il tempo è un'illusione d'accordo però in funzione di questa illusione si sapeva che io le quattro dovevo cominciare qui altrimenti dicevo siccome il tempo è un'illusione vengo anche l'anno prossimo cioè vengo l'anno prossimo tanto voi non me raccorgete perché il tempo è un'illusione quindi in realtà un conto è sono i grandi discorsi l'altro conto è la vita con cui dobbiamo fare i conti quotidianamente allora comunque eternità c'è un termine ebraico che è olam che viene sempre tradotto con eternità sempre regolarmente poi su olam facciamo un discorso molto curioso che ci porta molto lontano potenzialmente molto lontano nell'universo allora questo olam viene sempre tradotto con eternità questo qui è il dizionario di ebraico oramaico biblici della società biblica britannica edizione italiana c'è qualcuno che può venire a leggere Edo vieni qui Edo mi leggi che cosa c'è scritto lì alla voce olam non tradurre con eternità grazie nei dizionari non tradurre con eternità come lo trovate tradotto eternità perché? perché siccome la Bibbia deve parlare di Dio deve parlare anche di eternità perché l'idea di Dio che i teologi hanno elaborato attenzione non è che i teologi sanno qualcosa di Dio i teologi elaborano delle idee su Dio sapere è un'altra cosa e di Dio nessuno sa nulla nessuno ha mai saputo nulla tant'è che ognuno è libero di presentarlo come crede tant'è che l'umanità l'ha presentato in tutti i modi possibili immaginabili perché nessuno sa nulla quindi quando sentite un teologo che dice perché Dio è sappiate che è la sua elaborazione di Dio allora siccome in questa elaborazione che è legittima per carità i teologi facciano i teologi ci mancherebbe i teologi devono occuparsi di teologia sarebbe bene che non si occupassero più della Bibbia perché la Bibbia con la teologia non ha niente a che vedere esattamente come l'Ilia dell'Odissea dopodiché si occupano di teologia è il loro lavoro ha detto bene il Papa Francesco quando era in Georgia mesi fa ha detto lasciamo che i teologi studino le loro cose astratte sono assolutamente d'accordo l'importante è sapere che mentre io dico faccio finta che sia vero ciò che leggo nella Bibbia e vedo che cosa ne viene fuori loro dovrebbero dire facciamo finta che Dio sia così perché non lo sanno com'è Dio non c'è niente da fare non lo sanno perché nessuno sa nulla di Dio quindi anche loro fanno finta io lo dichiaro loro un po' meno allora io dico se olam non significa quello lo vogliamo togliere cioè vogliamo smettere di tradurre olam con eternità visto che lo sappiamo che non significa eternità lo sappiamo è persino scritto nei dizionari non è che lo dice Biglino è scritto nei dizionari e se è scritto nei dizionari direi che è ufficiale quindi quella traduzione lì deve scomparire prendiamo Genesi 17 versetto 1 Abraham aveva 99 anni quando il Signore gli apparve e gli disse io sono Dio onnipotente cammina nella mia presenza e si integra grazie allora Abraham aveva 99 anni quando il Signore Dio in ebraico è quando Yahweh Signore è la tradizione di Yahweh in ebraico non è una traduzione è un modo per rappresentarlo perché che cosa significa Yahweh non lo sa nessuno quindi tradurre Yahweh con Signore è di nuovo una libertà diciamo che siccome gli ebrei non possono pronunciare il nome di Yahweh allora lo sostituiscono con Adonai che è un'invocazione che vuol dire Signore mio allora si scrive Signore però attenzione non è la traduzione è la traduzione di un'altra parola è la traduzione di Adonai non di Yahweh attenzione comunque quando Abraham il Signore gli apparve e gli disse gli apparve in ebraico c'è scritto un'altra roba ma non è questo l'elemento importante qui sarebbe come se voi diceste ad un amico ehi Mario sono due anni che non mi appari no c'è scritto che gli si fece vedere così come voi dite ad un amico sono due anni che non ti fai vedere ecco uguale uguale ok va bene e poi dicono a me tu parli sulla base di traduzioni ogni tradizione ha un tradimento ne sono maestri maestri da Nobel io sono Dio l'Onnipotente in ebraico Ani El Shaddai io sono El Shaddai El è il singolare di Elohim Bibbia di Gerusalemme edizione del 2009 ristampa nel 2013 la traduzione comune Onnipotente non è esatta il senso è incerto si è proposto Dio Signore della montagna ma sarebbe preferibile Signore della steppa allora voi capite che nella Bibbia ci dovrebbe essere scritto che Dio si presenta e dice io sono il Signore della steppa quei pochi fedeli che leggono la Bibbia avrebbero un minimo di turbamento allora meglio scrivere Onnipotente capite? ma il fatto che lui sia presente come Signore della steppa è curioso perché è coerente con tutto il discorso biblico perché lui era il Signore della steppa era il territorio nel quale ha trovato i suoi quando glieli hanno affidati quindi questa definizione che lui si dà è coerente poi che non sia Onnipotente basta leggere tutta la Bibbia per capire che non è Onnipotente è di uscire a fare un decimo di quello che ha promesso se va bene di quello che ha promesso i suoi un decimo dico dal punto di vista territoriale ma un decimo è già tanto meno molto meno cioè l'Onnipotenza è l'ultimo degli attributi che si può caricare addosso a questo personaggio qui ma proprio l'ultimo era un piccolissimo potente nei confronti della famiglia che gli hanno assegnato finito quindi anche Onnipotente deve scomparire deve scomparire Olam eternità deve scomparire Onnipotente deve scomparire Barà con il significato di creare deve scomparire la traduzione di Elohim con Dio deve scomparire in queste Bibbie qui che vi sto facendo vedere fino a che ci lavoravo io adesso ho visto che hanno tradotto i salmi hanno ricominciato purtroppo a tradurlo ma allora quando ci lavoravo io e di fatti se prendete quelle edizioni là lo trovate Elohim non veniva tradotto si lasciava Elohim perché non si sa cosa vuol dire e allora si lasciava Elohim che è l'unica cosa intellettualmente corretta e onesta da fare non traduciamolo è chiaro però che se poi il fedele non trova Dio 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 dice ma allora di che cosa parla la Bibbia finalmente capisce di che cosa parla la Bibbia non di Dio tutto lì non c'è bisogno di scoprire nulla basta fare un lavoro da cretini leggere quello che c'è scritto certo bisognerebbe poterlo leggere in traduzioni almeno non dico controtendenziose dall'altra no ma almeno giuste se il verbo è plurale lasciamolo plurale se non sappiamo cosa vuol dire Shaddai tutt'al più lasciamo Shaddai se non vogliamo tradurre Olam con eternità e poi non lasciamo Olam ma non traduciamolo con eternità visto che sappiamo che non vuol dire eternità perché nel momento in cui è scritto nei dizionari e continuiamo a tradurlo così stiamo commettendo un falso ma è evidente è evidente non sto facendo disquisizioni di alta esegesi filologica per dire no 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 sto semplicemente rimarcando delle cose evidentissime evidentissime che non ci dovrebbero neanche essere perché un verbo plurale va lasciato al plurale ed è cioè fa venire per si male alle gengive il fatto di dover parlare di una cosa simile perché pensate un po' no se uno traducesse da qualunque altra cosa i verbi li mette come vuole no no se l'autore ha scritto così lasci così e se non ti piace lasci così lo stesso perché altrimenti se comincia a cambiare allora cambiamo tutti non solo tu chi sei tu per cambiare chi sei nessuno come me che di fatti non cambio io non cambio neanche un puntino dalla Bibbia masoretica dico tolgo un punto perché per carità se togliessi mai un puntino mi salterebbero addosso già più di quel che faccio adesso per dirmi che cambio le cose a mio piacimento che è esattamente ciò che fanno loro tra l'altro vi faccio vedere che cos'è un puntino qui c'è scritto la lingua ebraica biblica la lingua ebraica in genere è scritta tutta senza le vocali perché le vocali non ci sono ci sono solo i suoni vocalici e tutta la lingua è fatta da più o meno 500 gruppi di tre consonanti l'uno e a seconda dei suoni vocalici che vengono messi cambia nel significato qui c'è scritto tevel mettiamo una e ebraica che è fatta da due puntini un'altra e ebraica fatta la stessa diventa tevel e così significa universo mondo mettiamo un'altra e ebraica cioè aggiungiamo un puntino qui e un puntino qui rimane sempre tevel ma significa rapporto sessuale di una donna con un animale così è universo mondo con i due puntini e rapporto sessuale di una donna con un animale io non cambio neanche un puntino guai l'esigenza ebraica invece lo fa cambia i significati quella attuale dico cambia i significati e ha diritto di farlo perché questi puntini qui ci sono puntini oppure lineette eccetera sono stati messi tra il VI e il IX secolo dopo Cristo quindi hanno finito di metterli all'epoca di Carlo Magno per tentare proprio di fermare la libertà di lettura della Bibbia e l'hanno fatto questi individui che si chiamano Masoreti cioè custodi della tradizione e quindi nel tentativo di bloccarla hanno messo quelle cose lì come dire d'ora in avanti la leggiamo così ma non è che loro avessero la verità perché c'erano quattro scuole in quel tempo lì ha vinto questa scuola qui e quindi noi abbiamo questa questa qui si chiama la scuola di Tiberiade capite? quindi chi vuole cambiare quei puntini ha diritto di farlo perché li hanno messi degli uomini in più secoli quindi altri uomini possono cambiarle e metterne altri in assoluta libertà quindi questo è per cui quando la Bibbia ci racconta delle cose io dico visto che già non sappiamo niente facciamo almeno finta che sia vero ciò che c'è scritto perché l'alternativa è la Bibbia è una montagna colossale di balle la buttiamo via a me sta benissimo è ad altri che non sta tanto bene la Bibbia è uno dei tanti libri che l'umanità ha scritto nel corso della sua storia e quindi come tale va presa finito basta questi problemi qui non è che ci sono solo sulla Bibbia sia ben chiaro ci sono su tutti i testi antichi il fatto è che sugli altri testi antichi per fortuna per noi non sono state costruite queste religioni penso a quelli dei sumeri piuttosto che i testi greci eccetera voglio dire chi ha fatto gli studi classici ricorda la questione omerica cioè l'Iglia è dove sia l'ha scritto Omero o no Omero è esistito o no l'hanno scritto un sacco di persone poi Omero l'ha messa assieme oppure questa collazione di vari testi cioè non si sa nulla esattamente come per la Bibbia non è che sia diverso è uguale assolutamente uguale il problema è che la Bibbia sappiamo perché cosa viene usata per fortuna l'Iglia e l'Odissea no altrimenti parlerai anche di lì ma ne parlo già peraltro nei due libri mondadori ho fatto l'analisi parallela tra l'Iglia e l'Odissea proprio per documentare come queste raccontino esattamente le stesse storie quando dunque adesso al Salone del Libro di Torino io di nuovo un incontro con un teologo un altro uno storico protestante e forse di nuovo un rabbino al Salone del Libro poi so che al giugno a Udine ho un incontro con un teologo che arriva dalla Palestina uno o due lama e un altro che non mi ricordo chi è l'anno scorso il 6 marzo ho fatto l'incontro a Milano con tra i più alti rappresentanti delle quattro religioni che provengono da questo libro tra l'altro quell'incontro lì di Milano è tutto scaricabile gratuitamente ne viene fuori un libro così dove c'è tutto ciò che è stato detto in quell'incontro di quattro ore tra me e i quattro rappresentanti ed è gratis lo trovate sul sito di un editor e ve lo scaricate è gratuito quindi lo promuovo per questo perché è gratis per cui è un bel lavoro che uno editori ha fatto fare ebbene in quell'incontro lì sono venute fuori una serie di cose vi dicevo prima della dell'eternità allora il teologo cattolico che è docente alla facoltà di teologia dell'Italia del Nord dice che nel mondo semitico dunque nella Bibbia siamo a tre ore ventisette minuti e trenta secondi non esistono i concetti filosofici metafisici non esiste il concetto dell'eternità non esiste il concetto di immortalità e questo concetto di creazione dal nulla è una visione che è fuori completamente dalla mentalità semitica non ci sono quindi non mettiamoceli per favore non ci sono dice appunto sono tutti attributi insomma di carattere metafisico così come il concetto di eternità immortalità semplicemente non esistono non esistono lo trovate scritto non esistono infatti non esistono il concetto di onnipotente che abbiamo appena letto qui c'era l'arcivesco vortodosso che ha detto una cosa carina ha detto ma io credo che qui siamo tutti d'accordo come diceva Mauro dove tante volte si devono rivedere i testi biblici rivedere un testo dove tante volte si perde il senso della parola come onnipotente che non c'entra nulla con il testo originale ma se lo sappiamo tutti vogliamo smettere di tradurre con onnipotente se non esistono i concetti di eternità immortalità creazione dal nulla la vogliamo smettere di raccontare che sono nella Bibbia la vogliamo smettere di tradurre bara con creare visto che non lo significa mai e nel libro non c'è creazione della Bibbia io l'ho ripreso tutti i passi sono 32 mi pare se lo ricordo bene tutti i passi biblici in cui è presente il verbo bara non ce n'è uno nel quale significa di tutto sapete cosa significa anche ingrassare sapete cosa significa in un caso tagliare gli alberi su un pendio di una montagna per renderlo edificabile diremo noi bara bara quel verbo lì che viene tradotto con creare dal nulla vedete quindi vanno cambiate allora a un certo punto adesso arriviamo ad una delle cose curiose che voglio dirvi facciamo prima questo si è parlato del peccato originale sapete il peccato originale è quello che dà origine al tutto cioè noi nasciamo tutti peccatori quindi macchiati quindi abbiamo necessità di intermediari che se facciamo i buoni ci riconducono alla conciliazione con Dio che ci ridà finalmente la vita eterna che ci aveva tolta quando Adamo e Deva hanno commesso l'infamia di quella l'infamia di quella disubbidienza si è parlato di peccato originale il rabbino capo ho un po' di difficoltà a parlarne perché non voglio offendere la sensibilità di nessuno siccome per gli ebrei il peccato originale non c'è perché nella Bibbia non c'è ma lui aveva lì a fianco un ortodosso un cattolico un protestante che invece che invece io pensavo credessero nel peccato originale dice non voglio offendere la sensibilità di nessuno quindi come dire mi astengo tra l'altro ortodosso se voi avete timore un consiglio così un suggerimento se avete timore di passare qualche anno in purgatorio perché proprio non siete stati bravissimi diventate ortodossi nel purgatorio non ci finite più perché per gli ortodossi il purgatorio non c'è ma Dio è sempre lo stesso Gesù Cristo è sempre lo stesso è un'altra offerta sapete nel supermercato delle offerte se stai con me ti do anche paghi due prendi tre cioè prendi inferno purgatorio e paradiso se invece vai di là prendi solo uno alla fine prendi solo uno paradiso quindi ognuno scelga perché dico la fine prendi solo uno perché per gli ortodossi l'inferno finirà con la fine dei tempi cioè siccome di qui alla fine dei tempi tutte le anime che sono nell'inferno hanno tempo per convertirsi si convertiranno quindi con la fine dei tempi l'inferno scompare per cui nell'eternità saranno tutti in paradiso quindi se volete rimanere cristiani continuare a credere nello stesso Dio continuare a credere nello stesso Gesù Cristo ma volete essere certi che non passerete l'inferno nell'eternità sì passerete l'eternità nell'inferno che cos'è l'eternità eccetera diventate ortodossi non starete più nell'inferno per l'eternità ok quindi pensate allo stesso Dio che al mattino si sveglia e dice al cattolico romano ti faccio bruciacchiare un po' quello di Atene no lasciamo che i teologi studino le loro cose astratte che ha ragione il Papa allora il rabbino non ne parla il biblista valdese il biblista valdese prima vi ho fatto vedere quel dizionario di ebraico e ramaico biblici la versione italiana è firmata anche da lui nel senso che è uno dei più importanti biblisti italiani cioè lui fa i dizionari lui dice tra Genesi 3 e la lettera ai Romani che è quella dove si inizia a ventilare l'idea del peccato originale dove l'Apostolo Paolo dice che per mezzo di un uomo la morte è entrata nel mondo evidentemente non c'è coincidenza e anzi uno leggendo Paolo si può chiedere dove trova quell'idea ma scusate ce la state raccontando voi da secoli io li ringrazio per l'onestà intellettuale che hanno avuto quel giorno lì di parlare chiaramente tant'è che io non sono neanche mai dovuto sì solo una volta con il rabbino non sono neanche mai intervenuto a far loro delle domande perché c'erano dei momenti in cui io mi chiedevo ma che cavolo ci sto a fare io qui stanno dicendo tutto loro chissà forse dicevano questo perché non lo so non voglio va bene così il teologo cattolico staccherei il concetto del peccato dal concetto clanico cioè che se i genitori hanno peccato i figli se lo tirano dietro una roba di questo genere secondo me dice lui nel nuovo testamento è ampiamente sconfessata anche se purtroppo è stata ampiamente usata in teologia il peccato originale non c'è allora non c'è onnipotente non c'è eternità non c'è creazione non c'è immortalità non c'è il peccato originale che cos'è l'antico testamento? quel libro che io dico dal 2010 uno dei tanti libri che l'umanità ha scritto nel corso della sua storia e non si occupa di quelle robe lì tutto lì sarebbe sufficiente che la smettessero di usarlo come base per una religione e che lo considerasse come uno dei tantissimi altri libri che abbiamo perché se il peccato originale non c'è che cosa ha fatto Pio IX nel 1854 quando ha proclamato il dogma della immacolata concezione di Maria? Immacolata concezione vuol dire che la Madonna siccome il concilio di Efeso è stata fatta diventare Teotokos cioè madre di Dio in quanto madre di Dio non poteva nascere macchiata dal peccato originale e quindi ha proclamato il dogma della immacolata concezione cioè lei è l'unico essere umano nell'intera storia dell'umanità a essere stata concepita senza la macchia del peccato originale ma se il peccato originale non c'è che cosa dogmatizza quel dogma? Il nulla oppure se Pio IX conosceva la storia il falso e non ci sono tante alternative cioè se il peccato originale non c'è noi tutti siamo nati come la Madonna senza macchia tutto lì ma nella Bibbia il peccato originale non c'è basta leggerla non c'è c'è nelle interpretazioni non nella Bibbia 1858 nella grotta di Massabiel Bernadette Zubirou vede questa figura femminile che lei chiama sempre Acherò che nel dialetto pirenaico significa quella là lei non l'ha mai chiamata la Madonna quella là Acherò diventa la Madonna quando la chiesa si impossessa del tutto quindi lei diceva Acherò ha detto questo Acherò bene Acherò dice io sono l'immacolata concezione ma se era la Madonna sapeva di che cosa stava parlando e se non era la Madonna che cosa le hanno fatto dire che non ha mai detto ma che al Papa serviva che lei dicesse per avallare un dogma proclamato quattro anni prima e tanto di lì non si scappa possono inventarsi quello che vogliono ma i ragionamenti di un mentecatto sono proprio basici più bassi dei miei non ce ne possono essere più bassi di questi non ce ne possono essere però è così è l'evidenza se non c'è il peccato originale come non c'è non c'entra nulla l'immacolata concezione di Maria da questo non si scappa assolutamente siccome Barà non vuol dire creazione qui si è parlato anche di questo a un certo punto la giornalista che conduceva il tutto chiede e dice ma quindi secondo la lettura biblica chiede la giornalista si può davvero parlare di creazione di Adamo il teologo cattolico Adamo è stato puntini è stato fatto è una cosa un po' diversa la giornalista ma lei si trova d'accordo con Mauro Biglino allora? lui ma vuol dire che è stato con qualcos'altro è venuto fuori se vogliamo mantenere l'allusione che sia fatto d'altro si è fatto d'altro e certo Adamo è fatto d'altro e la Bibbia ce lo dice di che cosa ha fatto non poteva andare più avanti io già gli sono grato per aver detto questa frase qui non poteva andare più avanti me ne rendo conto ma la Bibbia non dice mai che Adamo è stato creato Adamo è stato fabbricato letteralmente fabbricato e non è stato fabbricato nel Gan Eden come ci viene raccontato cioè Dio ha creato l'uomo nel paradiso terrestre neppure la Bibbia lo dice la Bibbia dice che gli Elohim prendono l'Adam e lo mettono nel paradiso terrestre l'Adam l'hanno fatto da un'altra parte lo dice la Bibbia quindi dire di nuovo che Dio ha creato l'uomo è un'altra falsità che non ha riscontro biblico arrivo c'è una persona laggiù è un'altra falsità perché la Bibbia dice prese l'Adam e lo pose in Gan Eden e dopodiché questo Dio onnisciente onnipotente dopo un po' lo pone in Gan Eden dice perché lo custodisca ci lavori e quindi prende un gruppo di gli Elohim prendono un gruppo di maschi perché l'Adam è con l'articolo quindi non è prese Adam prese l'Adam cioè quel gruppo lì quel gruppo particolare lì e lo mette lì perché lo lavori ed è per questo che ci mettono soltanto i maschi poi però questo Dio onnisciente onnipotente bontà sua dopo un po' di tempo dice la Bibbia si accorse che la compagnia degli animali non era sufficiente per l'Adam e allora decidono di fare a questi Adam la femmina e anche qui questo Dio onnipotente che fa così e crea l'universo per fare la femmina sentite che casino deve fare poi andate a leggerlo induce nell'Adam un sonno profondissimo non è che lo addormenta un sonno profondissimo gli preleva un qualcosa da una parte laterale ricurva chiude la carne dove ha fatto il prelievo con ciò che ha prelevato fabbrica la femmina ma non poteva fare così? questo è un intervento di prelievo di cellule come spiega molto bene il dottor Pietro Buffa e lui è come dire il vertice di un iceberg che si sta ingrandendo sempre di più di accademici genetisti biologi che stanno prendendo in seria considerazione le cose che vengono fuori da questi libri allora Dio che così con uno schiocco di dita fabbrica l'universo per fare la femmina deve fare un intervento chirurgico con tanto di sutura lo dice la Bibbia chiuse la carne dove ha preso quella roba lì ha chiuso la carne dopodiché fabbrica questa femmina anche qui non c'è il verbo creare ma ci sono tutti altri verbi che sono formare fabbricare costruire e poi la porta alla dam diciamo che è una settimana che io ando mangiare a casa dell'amico Arturo e gli dico oggi dopo aver mangiato gli dico questa volta la pasta era cotta al punto giusto cosa vuol dire? che è una settimana che mi dà una schifezza l'Elohim Genesi 2.22 l'Elohim Yahweh dalla costola la parte laterale di curva viene tradotta con costola che sta pure bene l'Elohim Yahweh dalla costola che aveva tolto l'uomo formò una donna poi la condusse all'Adam allora l'Adam disse questa volta è osso delle mie ossa e carne della mia carne questa volta non le altre femmine che mi avete proposto prima nella letteratura ebraica extra biblica si parla chiaramente del fatto che Adamo ha respinto un sacco di femmine che non gli piacevano questa volta va bene immagino Dio che dice che culo stavolta gli è piaciuto sempre state difficili sarà chiamata donna perché da uomo è stata tratta che nelle traduzioni non significa niente uno dice perché deve essere chiamata donna se da uomo in ebraico invece e per fortuna qui anche nella bibbia di famiglia cristiana hanno lasciato i due termini ebraici traslitterati sarà chiamata isha perché da ish è stata tratta ish significa individuo maschio isha è l'aggiunta della desinenza femminile a ish quindi sarà chiamata se volete uoma maschia perché da me è stata cioè avete preso un pezzo di me per fabbricarla questa qui va bene nelle traduzioni delle bibbie ebraiche in inglese dove qui c'è scritto questa volta in molte bibbie ebraiche in inglese c'è scritto finalmente finalmente capite finalmente è di un fascino incredibile questa storia qui cioè non è quella favola che ci hanno raccontato è una roba di una concretezza che fa venire la pelle d'occa almeno a me sì poi per fortuna altrimenti sono sette anni che ne parlo a me fa venire la pelle d'occa talmente è è affascinante questa storia qui poi sapete c'è la storia del dio vasaio sapete no? Dio che prende che prende l'argilla e con l'argilla modella l'uomo sì 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 oh no chiedo scusa la domanda me la stavo dimenticando la domanda tengo io era questo Zakria Zicic è trent'anni che dice le stesse cose che dici tu cioè questi benedetti Annunaki che vengono dal pianeta Nibiru 450.000 anni fa creano l'uomo sapiens è questo? è questo anche perché la Bibbia deriva da quei racconti lì la Bibbia arriva da quei racconti lì quindi è esattamente quello tenendo però presente bisogna però fare una distinzione che la Bibbia parla degli adamiti mentre quegli altri racconti parlano più dell'umanità in genere la Bibbia parla degli adamiti e parla degli adamiti che sono una specie particolare che loro si sono fatta per mettere dentro i loro Gan Eden cioè dentro i loro centri di comando laboratori sperimentali che erano sparsi sulla terra e la Bibbia ci parla di uno di questi Omero per esempio ci parla di un altro di questi altri erano diciamo nel continente americano però i racconti sono quelli lì assolutamente quindi Sicina ha avuto e ha tuttora insomma il grande merito di avere veramente scoperchiato un pentolone che veniva tenuto proprio pressato in modo che non si potesse immaginare che cosa c'è alla base della nostra vera storia allora qui c'è la metafora del Dio Vasaio cioè del Dio che prende l'argilla e modella l'uomo quando la Bibbia ci dice con che cosa siamo fatti diceva prima il teologo cattolico sì Adamo è stato fatto d'altro è stato fatto con altro la Bibbia ce lo dice proprio la Bibbia ci dice che noi siamo fatti bet cioè con lo zelem degli Elohim e zelem è parola che significa un qualcosa di materiale che contiene che mantiene la forma e siccome deriva dalla radice ebraica zalam che significa tagliare fuori nei dizionari diciamo in inglese di ebraico biblico qui si dice chiaramente che zalam significa qualcosa di cut off qualcosa che è stato tagliato fuori lei citava giustamente Sitchin Sitchin ci dice da dove veniva preso lo zelem dal sangue degli annunnaki maschi giovani purificavano il sangue per tirare fuori il DNA per inserirlo negli ominidi e farli diventare procedere col processo di encefalizzazione perché poi di questo si è trattato noi abbiamo dentro una dozzina di sequenze geniche che non condividiamo con nessuno non sappiamo da dove arrivino i testi antichi ci dicono da dove arrivano e sono quelle che hanno presieduto al processo di encefalizzazione cioè fare sì che noi fossimo individui capaci di comprendere e eseguire ordini allora qui c'è bet zelem con lo zelem degli Elohim e lo ripete più volte poi nel racconto del dio vasaio c'è una cosa interessantissima siamo in Genesi 2 7 e formò qui siamo sempre in quei dizionari con l'ebraico e formò l'Elohim Yahweh con l'articolo il Adam polvere cioè in ebraico c'è scritto che lui ha fatto qui c'è l'Adam Afar anche se non sapete l'ebraico non ha importanza che differenza vi salta agli occhi rispetto a prima l'Elohim ha fatto l'Adam con lo zelem e qui ha fatto l'Adam Afar non c'è il con non ha fatto l'Adam con l'Afar ha fatto l'Adam Afar che è un'altra roba che potrebbe essere se noi prendiamo testi che arrivano ovviamente da altre forme di pensiero che era il modello che hanno impiantato qui i Veda dicono che l'universo è popolato da 400.000 specie umanoidi di cui molte sono arrivate qui 400.000 quello che hanno fatto per mettere nei Caneden potrebbero averlo chiamato l'Adam Afar tant'è che nelle Bibbie quelle che vi citavo prima la traduzione è proprio questa e formò Yahweh Elohim il Adam polvere non l'Adam con la polvere perché questo è ciò che c'è scritto in ebraico e io dico sempre io faccio finta che sia vero ciò che leggo questa è la premessa di tutto faccio finta che sia vero ciò che leggo perché io la verità non ce l'ho sia ben chiaro però leggo questo e leggo la differenza sostanziale qui l'hanno fatto con lo zelem qui non l'hanno fatto con la polvere non l'hanno fatto con la polvere e qui c'è un'altra cosa e questo poi adesso avevo fatto una conferenza a Savona dove avevo invitato il dottor Massimo Barbetta adesso ho detto di nuovo di invitarlo a Genova non mi ricordo quando è che vado insomma tra maggio giugno non mi ricordo perché queste cose qui vengono fuori dal suo lavoro lui si occupa moltissimo di cabbalà e di cultura egizia è un conoscitore sia dell'astronomia egizia antica sia dei geroglifici eccetera e poi è un profondo conoscitore di cabbalà segue un sacco di studi cabbalistici eccetera e quindi sono delle cose che stiamo facendo insieme e quindi la situazione è diversa ma diversa nel senso che da dove arriva allora questo Adam visto che la Bibbia dice prese l'Adam e lo pose in Gan Eden nel versetto immediatamente successivo si racconta di quando appunto l'Elohim ha piantato un giardino in Eden dove coltivavano ogni albero diciamo ogni vegetale che porta frutti buoni da mangiare ma la terra era già tutta piena di vegetali lì dentro coltivavano ciò che produceva cibo lo dice la Bibbia chiaramente e com'è che lo pianta in questo Gan Eden si dice piantò un Gan Eden a est o in oriente in realtà in ebraico c'è scritto un'altra cosa c'è scritto Mikedem che vuol dire da oriente se Kedem volesse dire oriente tra l'altro voglio cercare soltanto una cosa sì ok allora qui c'è questa espressione qui mi che vuol dire da Kedem è una radice che ha un significato preciso viene tradotta con oriente che è un suo significato secondo perché il significato primo è ciò che viene prima un qualcosa di preesistente quindi in realtà qui la Bibbia ci sta dicendo che quando lui loro hanno impiantato questo GAN cioè questo giardino recintato e protetto in Eden lo hanno piantato facendolo derivare da un Kedem cioè da un GAN da un giardino che esisteva già prima da qualche altra parte cioè è come se qui avessero impiantato un qualcosa la cui sorgente sta da un'altra parte e questo è un significato che è chiaro chiarissimo in tutti i dizionari talmente chiaro che vorrei dare una indicazione siccome la prima volta che io ho parlato dello Tzelem questa qui c'era un teologo che non sapendo che Tzelem derivava dalla radice Tzalam si era trovato un po' sorpreso allora ha cercato di inventarsi un po' di tutto per dire che Tzalam non vuol dire tagliato fuori ma vuol dire inciso a rilievo vabbè va bene e poi dicevo oltretutto Biglino io siccome citavo il dizionario il Brown Driver Bricks in cui si trovava quel significato lì del cutoff lui dice Biglino oltretutto non mette neanche la pagina del dizionario sarà che io nei dizionari sono abituato a cercare in ordine alfabetico non in ordine di pagina quindi ritenevo di non doverla mettere non so se lui senza la pagina non è in grado di ritrovarlo vabbè poverino allora questa volta gli voglio essere di aiuto questo significato qui del Kedem nel dizionario del rabbino Matichiau Clark che deriva dagli studi di Samson Raffalich si trova pagina 224 nel Brown Driver Bricks si trova pagina 869 nel dizionario di etimologia biblica pubblicato dall'università di Haifa si trova pagina 562 esattamente questo significato che ho riportato adesso quindi almeno così siamo tutti tranquilli il significato lo può trovare allora ricollegando le due cose noi ci troviamo di fronte ad un possibile modello che è stato fabbricato per essere impiantato qui e che arriva da una sorta di matrice originale che è da un'altra parte questo è ciò che ci raccontano altri testi antichi probabilmente ce lo racconta anche la Bibbia e la Bibbia forse questa cosa qui ce la dice anche nel Salmo 24 dove ci dice una cosa interessantissima il Salmo 24 è quello che Monsignor Balducci che era il Monsignore del Vaticano che aveva il compito di studiare la vita extraterrestre sapete lui diceva non c'è alcun dubbio la Bibbia conosce gli extraterrestri li conosce come non c'è nessun dubbio lo trovate su YouTube un sacco di affermazioni mai nessuno l'ha contraddetto mai nessuno l'ha fermato lui aveva questo compito specifico lui citava il Salmo 24 i primi versetti al Signore appartiene la Terra e quanto essa contiene il mondo e quanti lo abitano c'è una distinzione netta tra il pianeta Terra e il resto dell'universo con i suoi abitanti lui dice per esempio questo è uno dei passi in cui la Bibbia distingue nettamente tra la Terra e gli abitanti dell'universo poi il Salmo 24 si conclude con un inno a Yahweh chi è questo Signore della gloria il Signore il forte l'eroe l'eroe in battaglia sollevate porte i vostri architravi innalzatevi porte eterne perché entra il Re della gloria chi è questo Re della gloria il Signore degli eserciti eccetera allora qui si parla di porte alle quali si dà un ordine preciso due ordini di porte che sono chiamati in due modi diversi lo scrivo in italiano così le prime sono chiamate Shearim che nei dizionari inglesi sono tradotte con Gates le seconde sono chiamate Petachim che significa aperture e le seconde sono collegate a Olam sapete quel termine che dicevo prima che viene tradotto con eternità ma che non significa eternità Olam ha la radice Olam ma ha un significato preciso indica un qualcosa di non conosciuto ok non si sa quindi questo vale sia per il tempo che per lo spazio allora qui si dice ci sono delle porte alle quali si dice alzate le vostre parti alte perché deve passare Yahweh con il suo kavod che viene tradotto con gloria e poi si dice a queste porte alzatevi anche voi perché deve passare Yahweh con il suo kavod quindi ci sono delle porte d'ingresso e delle porte di uscita le porte di uscita si aprono sul Olam cioè su un territorio di cui nessuno sa nulla si entra di qua si esce di là e ciò che c'è oltre il di là non è dato di conoscere chissà dov'è sto di là il dottor Massimo Barbetta mi raccontava appunto nei racconti egizi Ra viaggiava attraverso dei tunnel con delle porte di ingresso e di uscita all'interno di quel tunnel lui viaggiava ad una velocità altissima che non dipendeva da lui e alla fine usciva nel Lam Duat cioè nel mondo di là di cui nessuno sa nulla perché nessuno degli umani ci va se mettiamo assieme queste cose qui cominciamo a farci delle idee che si collegano a ciò che è stato pubblicato pochissimo fa dall'università di Napoli dove hanno scritto abbiamo realizzato il primo prototipo degli Stargate per i viaggi spazio-temporali sempre la stessa università nella quale si dice che io sono mentecatto questi sono i ragionamenti del mentecatto però c'è una giustizia divina per cui sempre la stessa università dice abbiamo realizzato il prototipo di queste porte i testi indiani hindu identificano addirittura nei cieli delle porte attraverso le quali arrivavano quelli lì ci sono delle zone del cielo che loro identificano come le porte chissà che la Bibbia non ci parli delle stesse cose per questo dico che è affascinante che è molto affascinante perché forse la storia è molto più ricca di quella che ci è stata raccontata d'altra parte sì dunque c'era già una mano là